ciao a tutti oggi è venerdì 14 luglio 2023 siamo qui in apiario per effettuare il blocco di covata ormai è periodo di effettuare i trattamenti quindi andremo ingabbiare la regina adesso ve ne farò vedere una come ne ingabbio andremo ingabbiare la regina in queste gabbiette qui di plastica sono le classiche gabbiette cinesi queste qua sono di plastica all'inizio le vendevano in bambù poi le hanno diciamo migliorate hanno fatto queste qua di plastica che hanno una parte che si apre questa e poi una volta chiuse vengono basta schiacciare nel telaino e rimangono ferme non si muovono più io le uso da diversi anni cioè prima usavo quelle in bambù e poi ho cominciato a usare queste queste qua io mi trovo molto bene sarà a più di dieci anni che utilizzo questa tecnica della gabbietta cinese e mi trovo bene magari qualche regina viene uccisa ma ma poca roba però alla fine delle tecniche che ho provato io è quella che mi ha dato maggior soddisfazioni e le famiglie risentono poco ed inverno è è molto difficile che mi muoiono delle famiglie a causa della varroa anche sono un di anni che non me ne muore neanche una per dire con utilizzando questa tecnica che qualche farò vedere adesso che poi non è nient'altro che prende la regina chiudere in una gabbietta non è che ci sia tanto da fare basta un attimo dedicarsi alla prende alla tecnica che è molto semplice non bisogna manipolare la regina cioè basta basta solamente appoggiare la gabbietta sopra su vi faccio vedere lo togliamo i melare questa famiglia qua che è la prima che sto facendo perché oggi c'è ieri piovuto e oggi c'è un po nulla allora ho detto comincio poi finirò domani perché devo fare una ventina e allora ci vuole tempo e poi se c'è caldo va fatto la mattina perché altrimenti è problematica allora adesso togliamo l'esclu di regina le famiglie le avevo già strette perché da questo ho fatto i nuclei settimana scorsa quindi l'ho già l'ho già stretta bene vedete su due quattro sei telaini e tre cerri adesso ci diamo un'occhiata questo è il diaframma che ho fatto io ci vedono le viti e questi qua sono dei foliceri che ho messo i giorni scorsi li stanno già costruendo bene l'erba medica una buona parte è stata tagliata qua però tipo mio fratello non ha lasciato qualche campo da semenza tre o quattro ettari in modo che così le api hanno qualcosa e poi riusciamo ad avere un po di erba medica da trebbiare per tenere il seme dunque stanno costruendo già bene le famiglie sono abbastanza belle però è il momento di ingabbiare non aspettate è meglio partire un attimo prima perché dopo hanno più tempo per riprendersi dal blocco questo qua invece è un telaino già già costruito che c'era del polline e stanno riempiendo di miele non mi ricordo se era già pieno di miele l'hanno riempito comunque stanno raccogliendolo intanto preparo la gabbietta già aperta ho tolto la gabbietta così e poi adesso andiamo a togliere il diaframma e a cercare la regina sperando di trovare la svetta senza dover perdere un'ora a cercarla speriamo sono sono marchiate tutte però come ci sono tante api delle volte si si nascondono non si trovano quindi è un lavoro che ha fatto un po molta calma però avendole già strette devo cercare solo su sei telaini non su su tutte su tutti e nove io non li tengo mai su dieci al massimo su nove però ho visto che l'ideale quando c'è raccolto è sempre tenerle belle strette su sei o su sette mettere i melari sei o su sette di covata in modo che così portano tutto nel melario e dopo svuotiamo i melari allora qui non la vedo guardiamo sempre due volte con calma non si sta neanche male oggi dalle api non c'è neanche 200 gradi come solito questo qua dovrebbe essere in questa zona qua perché qua c'è tutta covata aperta e uova non so se riuscito a vederla dall'inquadratura ma qui non ci sono scorta eccola qui allora adesso prendiamo il telaino bene la nostra gabbietta e il nostro coperchio il coperchio lo mettiamo in una zona comoda qui poi prendiamo il nostro telaino la regina è lì la appoggiamo sopra in modo che la regina salga pian pianino magari mettiamo la leva con calma lei va dentro bisogna stare un attimo tranquilli poi con un dito si mette sopra la regina dentro adesso magari diamo un colpo secco per farla andare giù un importante chiudere bene il tappo e poi io faccio così prendo la regina dove c'è della covata aperta lo posso mettere anche nell'altro lato prendo la regina hanno anche il foro vedete se volete mettere un chiodino ma io ho visto che basta fare così si schiaccia bene il telaino in modo che ci venga la sagoma spero che riusciate a vederlo bene l'inquadratura sfondate un po il telaino in modo che stia bella ferma che non si muova poi io la metto come penultimo questo adesso lo appoggiamo un attimo qua magari e la metto come penultimo in modo che così tra 19 giorni io vado a trattare la famiglia vado a prendere la regina in gabbietta la ho sposto un attimo faccio un apibioxal glicerolo con la regina in gabbietta poi una volta fatto libero la regina quindi da 19 giorni a partire da oggi qui adesso la possiamo la famiglia la possiamo allargare così mi costruiscono i telaini quelli che ho messo i cerimi li costruiscono gli diamo spazio e poi dopo sei giorni dopo il primo trattamento vado a fare un altro trattamento sempre con apibioxal glicerolo adesso vediamo un po quanti te la linea abbiamo fuori abbiamo uno qua due ne abbiamo quindi abbiamo mettiamo questo così poi andiamo a mettere questo qui con la regina se avete dubbi potete mettere una puntina un segno un fa un signor cruni posca io ormai uso questa tecnica la metto penultimo così poi metto terreno di sponda non c'è problema perché l'importante che lo mettete sotto e non sopra perché così non c'è problema che il telaino sborda e vada a schiacciare la chiudete così appoggiate così con calma un po di fumo diaframma mi raccomando e tenetele sempre su questo caso l'ho allargata bene se volete fare un po più di miele magari la tenete più stretta dipende un po da come volete muoverle io adesso le ho allargate perché tanto l'erba medica anche se ce n'è qui adesso butterà poco perché c'è caldo è piovuto ma poco cioè piovuto sono venuto un temporale ieri però non è che è avuta tanta acqua e poi ormai qua ci sono due melari e poi stanno costruendo un po il melario l'ultimo perché li avevo finiti e adesso lo lascio così e quello che raccolgono non raccolgono ah e volendo potete non mettere scrudi regina adesso perché tanto la regina ingabbiata quindi potete potete lasciarli lasciarli senza scrudi regina io adesso questi qua per una quincina di giorni li tolgo questi due melare qui così tutte le volte vanno spostati e poi chiudiamo la prima è fatta quindi ricapitolando gabbietta hai usato questa però ci sono anche quelle in bambù ce ne dovete tanti tipi utilizzate un po quella che volete la prendete si apre in questo modo si appoggia la regina sopra come avete visto una volta poi la chiudete la incastrate nel telaino io l'ho messo nel penultimo poi la potete mettere anche in mezzo se preferite mettete una puntina un segno per sapere dov'è dopo 19 giorni andiamo a fare un un apibioxal glicerolo un apibioxal gocciolato e poi dopo altri sei giorni lo andate a rifare non chiedetemi perché 19 giorni non 18 non 20 ma mi hanno spiegato così la tecnica non è mia me l'hanno spiegata degli apicoltori che lo fanno da anni che hanno tante famiglie gente di cui mi infido ciecamente che mi hanno spiegato tante tecniche che funzionano mai avuto problemi io ho fatto un io vi la consiglio, poi ognuno a casa sua fa quello che vuole, io vi faccio vedere come faccio io, queste sono le tecniche che utilizzo io, possono essere giuste o sbagliate, poi sta a voi capirlo, fare delle prove e vedere un po' nel vostro territorio o con le vostre api quale funziona meglio e quale peggio. Per oggi direi che siamo a posto, se avete qualcosa da chiedere scrivete pure nei commenti o c'è sempre il gruppo di Telegram, vi scrivete, ci siamo in tanti apicoltori, siamo a vostra disposizione per qualsiasi domanda. Vi saluto, vi ringrazio e alla prossima, ciao a tutti, ciao, ciao, ciao.